E il lavoro, i sindacati diventano in queste ore argomento di scontro a distanza anche tra le forze politiche. C'è sempre più disoccupazione e precariato, siamo in presenza di una crisi mai vista, aggravata in Italia da un sistema che ostacola innovazione, coraggio e fantasia, sottolinea Renzi. Dall'opposizione Movimento 5 Stelle, Fratelli d'Italia se la prendono con i sindacati. Oggi è il primo maggio, la festa del non lavoro. I partiti che hanno spolpato il paese, PD in primis, non hanno ancora oggi soluzioni alla disoccupazione. Noi 5 Stelle abbiamo presentato l'abolizione dell'IRAP per le piccolissime imprese, per dare sollievo alle imprese e ai lavoratori e il reddito di cittadinanza. E per questo abbiamo scelto San Giovanni come luogo simbolo per la chiusura della campagna elettorale europea.